Le griglie analitiche sugli aiuti di Stato Come ho già accennato, sono uno degli strumenti che noi abbiamo ritenuto fosse necessario mettere a disposizione delle autorità di gestione nell'ambito dei fondi strutturali per l'interpretazione in particolare della sentenza Leipzig-Halle Le griglie analitiche sono delle checklist quindi delle liste di controllo sostanzialmente di interpretazione per chiarire le norme sugli aiuti di Stato applicabili al finanziamento pubblico di progetti infrastrutturali sono state elaborate nel 2012 su richiesta appunto del Comitato di coordinamento dei fondi strutturali in particolare quindi nell'ambito dei fondi strutturali e il primo agosto del 2012 la commissione a firma congiunta dei direttori generali della DG Reggio e della DG Concorrenza hanno inviato agli Stati membri queste griglie con una lettera di accompagnamento dicendo appunto questo per garantire il rispetto degli aiuti di Stato nell'attuazione dei programmi operativi dei fondi strutturali ora siamo al 2015 ora siamo nella fase quasi conclusiva del pacchetto della modernizzazione degli aiuti di Stato quindi inevitabilmente vi è sempre più l'esigenza di aggiornare queste griglie interpretative perché? perché la maggior parte dei riferimenti e anche in particolare alcuni elementi di interpretazione che si ritrovano nelle griglie del 2012 sono superate alla luce del nuovo regolamento di esenzione che è entrato in vigore il primo luglio 2014 alla luce chiaramente del pacchetto sui servizi di interesse economico generale che però era già entrato in linea in massima in vigore 2011-2012 e in particolare anche alla luce delle più recenti decisioni che hanno cambiato la pratica decisionale la pratica di interpretazione della commissione stessa anche perché essendo la sentenza la psichiale piuttosto recente è evidente che in questi quattro anni c'è stato un lavoro piuttosto alacre a livello della commissione ma anche degli stati membri per allinearsi con quelli che sono o possono essere i problemi che sono venuti a galla diciamo a seguito della sentenza stessa a che cosa si applicano dunque queste griglie analitiche? sono, danno l'interpretazione per stabilire se un finanziamento pubblico di infrastruttura comporta o meno un aiuto di stato cioè le griglie analitiche sono principalmente lì per aiutare gli stati membri a capire se nel finanziamento delle infrastrutture siamo in presenza o meno cioè o in assenza di aiuti di stato questo perché era fondamentale specificare che in determinati casi probabilmente nella stragrande maggioranza degli investimenti di carattere infrastrutturale ci troviamo in un ambito nel quale non si applicano le regole di aiuti di stato a noi in particolare viene da sottolineare il carattere quando c'è un carattere strettamente locale oppure quando c'è una completa assenza di elementi di attività economica pensiamo appunto a una strada pubblica nel quale non ci siano nessuna forma di pedaggio o cose del genere un sottopasso questi generi di investimenti che sono infrastrutturali chiaramente però nel momento in cui sono liberamente accessibili a tutti gli operatori senza tutti i cittadini senza nessun tipo di limitazione o di pagamenti eccetera sono chiaramente degli investimenti di carattere generale nel quale non si applicano le regole di aiuti di stato anche se le griglie in particolare del 2012 sono state elaborate sulla richiesta del COCOF quindi per l'applicazione in particolare nell'ambito dei grandi progetti finanziati con i fondi strutturali noi vogliamo ricordare che queste griglie si applicano e servono come interpretazione della posizione della commissione nell'ambito degli aiuti di stato a tutti i progetti infrastrutturali che siano grandi, che siano piccoli che siano nell'ambito dei fondi strutturali che siano anche al di fuori dei fondi strutturali giustamente sottolineava mia collega Balossino che ad esempio nell'ambito dei finanziamenti dei progetti di cofinanziamento nazionale che rientrano ad esempio nel Trans European Network for Transport, il TNT possono essere progetti cofinanziati nazionali che però non rientrano nei fondi strutturali ma anche a questi si applicano tutte le normative degli uti di stato in quanto parliamo di risorse statali per un investimento a un'infrastruttura che ha un uso economico e non siamo nell'ambito dei fondi strutturali però si applica questi principi di interpretazione degli uti di stato e quindi anche tutto quello che è il bagaglio interpretativo che è fornito dalle griglie analitiche le griglie del 2012 presentavano una griglia analitica generale che era la numero uno che conteneva i principi generali mentre le altre sette griglie allegate erano sette se non mi sbaglio erano sette in tutto quindi erano altre sei erano relative a settori specifici questo è uno degli elementi che ci preme molto sottolineare c'è stata una discussione in questo ultimo anno abbastanza estesa sulla questione del dobbiamo interpretare tutte le infrastrutture nello stesso modo o interpretarle differentemente o gli aiuti di stato o le infrastrutture a seconda del settore di intervento e sostanzialmente l'accordo al quale siamo giunti gli stati membri con la commissione con la direzione generale a concorrenza in particolare è che è difficile innanzitutto perché non abbiamo una interpretazione del concetto di infrastruttura quindi la definizione di infrastruttura sfugge di per sé e anche su questo ho già sentito delle domande di carattere informale che mi venivano sussurrate ma questo è infrastruttura o non è infrastruttura settorialmente noi abbiamo cercato di dare delle risposte è chiaro che queste non sono risposte necessariamente definitive probabilmente il definitivo sarà soltanto quando arriveranno in tutti gli ambiti delle sentenze della Corte per ora la Corte si è pronunciata in determinati ambiti ma in molti altri no per cui non possiamo sapere dove l'interpretazione fin dove arriverà tuttavia ci siamo resi conto che esiste una differenza di applicazione e di interpretazione a seconda dei settori anche perché i diversi settori possono essere ad esempio più o meno liberalizzati possiamo trovarci in settori nei quali le infrastrutture sono usate per dell'attività di carattere economico commerciale to cure e degli altri settori nel quale effettivamente la liberalizzazione o i processi di liberalizzazione a livello nazionale o a livello comunitario sono meno avanzati quindi nelle nostre griglie abbiamo voluto tenere conto di queste differenze e queste le abbiamo mantenute quindi come abbiamo detto le infrastrutture non sono un concetto uniforme non esiste una definizione possiamo avere alcuni orientamenti specifici quindi oltre al regolamento di esenzione come ad esempio le linee guida per gli aeroporti le infrastrutture le linee guida per gli orientamenti per gli investimenti nel settore energia e ambiente o per la banda larga nel quale abbiamo effettivamente delle soft law che sono lì per interpretare come comportarsi nel caso di aiuti di stato in questi settori in altri casi abbiamo invece degli orientamenti parziali in particolare contenuti nel regolamento generale di esenzione ad esempio le infrastrutture sportive quelle multifunzionali ricreative culturali o patrimonio delle quali parleremo questo pomeriggio con delle indicazioni particolari per quello che è il concetto di infrastruttura locale che in verità è un concetto molto più generale al quale farò riferimento ma in particolare partirò comincerò oggi pomeriggio su questo concetto specifico e in altri casi invece abbiamo sostanzialmente una prassi consolidata decisioni alcune decisioni in certi ambiti poche sto pensando all'ambito ferroviario nel quale abbiamo cercato di più o meno di identificare quelle che danno le indicazioni in termini generali ne abbiamo identificate tre o quattro a seconda di come vogliamo interpretarle oppure invece una pratica in particolare decisionale molto più ampia e in particolare recentemente la commissione ha cercato di acquisire una maggiore conoscenza che è quella ad esempio nell'ambito dei aiuti ai porti questo per darvi un'idea pensate a quello che è successo un paio di anni fa con gli aiuti alle arene multifunzionali a un certo punto la direzione generale della concorrenza quindi la commissione ha adottato tutta una serie di decisioni nell'ambito di aiuti alle arene svedesi tedesche in particolare olandesi per chiarire qual era l'ambito del concetto tutto questo che era il pacchetto arene tra il 2012 2011 2012 2013 che comprende anche gli aiuti ad esempio determinate decisioni per gli stadi sono sfociate poi nell'articolo specifico l'articolo 55 del regolamento di esenzione quindi il passaggio dal C al B è nel momento in cui abbiamo una prassi consolidata con tante decisioni a un certo punto abbiamo una conoscenza del settore e possiamo anche pensare di passarlo nel regolamento di esenzione per i porti ad esempio e gli aeroporti si considera che cominciamo ad avere una prassi sufficiente da pensare che una modifica e questo è già stato scritto anche nel regolamento attuale una modifica del regolamento dovrebbe includere effettivamente delle misure in questo senso quando questo lo annuncerà la nostra commissaria e poi abbiamo invece alcuni settori che noi riteniamo essere dei settori nei quali abbiamo una pratica in evoluzione o un'assenza di pratica nella quale quindi stiamo cercando di acquisire tutti gli elementi per avere una conoscenza specifica settoriale per affrontare questi settori questi aiuti all'infrastruttura in questi settori nella maniera più adeguata possibile le griglie quali esistono nel 2012 c'era la griglia generale la griglia agli aeroporti la griglia agli aeroporti alla luce delle nuove linee guida sugli aeroporti inevitabilmente è completamente da aggiornare noi abbiamo già appontato all'interno nostro una prima bozza quindi abbiamo già un lavoro in corso un cantiere su questo ma è chiaro che quello sugli aeroporti è completamente da aggiornare come anche quello sulla banda larga la griglia sulle infrastrutture culturali in verità conteneva degli elementi che sono attualmente sia sotto l'articolo 53 del GIBER sia sotto l'articolo 55 quindi infrastrutture multimediali ricreative sia infrastrutture culturali e patrimonio era una griglia molto esigua che forse non ha fornito tutte le interpretazioni che doveva fornire e comunque inevitabilmente oggi richiede un aggiornamento adeguato alla luce del regolamento esenzione quella sui porti in particolare data la pratica recente pratica decisionale va completamente aggiornata sulle infrastrutture di ricerca possiamo dire chiaramente va aggiornata alla luce delle nuove linee guida nell'ambito della ricerca e sviluppo però rispecchia ancora dei principi generali che erano già stati accennati nelle vecchie griglie che possono essere tuttora di valida applicazione come esempio nei servizi idrici per ora a me non viene da dire che siamo in una situazione particolarmente diversa da quella delle vecchie griglie questa ora è una mia posizione personale quindi la commissione può sempre esprimersi in altra maniera però sulla quale la discussione è in corso nel senso che si cerca di interpretare gli aiuti alle infrastrutture nel settore idrico alla luce di quelle che sono anche delle evoluzioni recenti nell'ambito del settore o del mercato ci sono in verità alcuni ambiti nel quale non avevamo delle griglie al 2012 ad esempio infrastrutture per la gestione dei rifiuti mancava una griglia di interpretazione per le infrastrutture di carattere energetico in particolare relative alle griglie di connessione o a tutti quelli che sono degli impianti di rete per nell'ambito dell'energia non c'è una griglia sulle ferrovie né sui trasporti pubblici locali non c'era neanche una griglia per le autostrade ponti di galleria con o senza pedaggio queste sono tematiche che sono state discusse in maniera ampia di recente sia all'interno della commissione sia nell'ambito di gruppi di lavoro con gli stati membri a questo ricordiamo sempre la griglia numero uno che è in interpretazione generale se io ho a che fare con una strada ad esempio urbana o una strada nazionale gestita dall'ANAS eccetera eccetera senza pedaggio tranquillo questa è un'infrastruttura generale nel quale non si applicano gli utili di stato questo appena la struttura delle griglie è sostanzialmente la stessa e noi vogliamo sempre mantenere una struttura simile con una formulazione il più coerente possibile purtroppo nelle vecchie griglie del 2012 siamo usciti un po' di corsa quindi certe volte non erano molto coerenti noi speriamo nella nuova versione quando riusciremo a a introdurle e a presentarle agli stati speriamo di avere la formulazione più coerente possibile tra i diversi ambiti c'è una parte sulla questione esiste o meno un aiuto di stato una parte sulla questione del siamo posso dire che non esiste un aiuto di stato perché sono in piena conformità con la comunicazione sui servizi di interesse economico generale nel pieno rispetto in piena conformità con i quattro criteri della Altmark oppure è vero sono nell'ambito degli aiuti di stato ma si applicano determinate regole ad esempio dei servizi di interesse economico la decisione dei servizi di interesse economico generale 21 del 2012 che è esenta da notifica come anche il regolamento generale di esenzione oppure la possibilità di rientrare in regimi di aiuti esistenti come era ad esempio nell'ultimo periodo di applicazione nel periodo di programmazione precedente nell'ambito della banda larga si faceva chiaramente riferimento a quelle che erano dei regimi approvati a livello nazionale se siamo nel quarto livello il quarto livello è aiuti di stato è necessario notificare l'aiuto di stato in genere non davamo nessun'altra indicazione perché nel momento in cui si rientra quello si rientra o nella prassi decisionale o si rientra nell'ambito dell'applicazione delle soft law specifiche ora un elemento importante l'elemento forse centrale dell'uso delle griglie ed è così che dovete anche usarle interpretarle in particolare è esiste o meno un aiuto di stato quando sto finanziando un'infrastruttura quindi questa è la parte principale e la parte introduttiva delle griglie del 2012 nel quale si specifica innanzitutto l'uso futuro dell'infrastruttura per un'attività economica o no a seconda dei beneficiari perché abbiamo anche il problema dei diversi livelli come accennava appunto Marta prima il livello della proprietà e della realizzazione dell'infrastruttura il livello della gestione e il livello dell'uso finale dell'infrastruttura dove possiamo avere degli attori economici che nei diversi livelli intervengono e ottengono un vantaggio dall'esistenza dell'infrastruttura stessa pensiamo a un incubatore per piccole e medie imprese dove inevitabilmente abbiamo la realizzazione dell'incubatore da parte dell'autorità pubblica che dice io voglio favorire la realizzazione e la creazione di nuove imprese sul territorio creo questa infrastruttura devo gestirla e la posso gestire io direttamente o la posso dare in gestione e se la do in gestione a quali condizioni la do in gestione perché devo a questo punto rispettare questo è il nostro principio devo rispettare il principio di una procedura di evidenza pubblica nel quale tutti i soggetti che possono essere interessati alla gestione dicono va bene tu non lo fai in house ma lo dai in gestione a un terzo questo terzo deve essere scelto sulla base di una procedura di evidenza pubblica questo libera un elemento di aiuto a livello della gestione anche se resta un elemento di aiuto a livello della realizzazione dell'opera stessa perché comunque questa infrastruttura viene utilizzata a questo punto io devo trovare una soluzione al fatto che io sto realizzando un'infrastruttura che viene usata da delle imprese e della quale io ho una proprietà che può effettivamente condurre a un vantaggio come realizzatore dell'opera stessa perché potrebbe essere un privato che dice io realizzo una pepiniera realizzo un incubatore un business center in quanto ritengo che in questo ambito ci siano dei forti vantaggi e la possibilità di ottenere degli extra profitti e pensiamo agli utenti finali gli utilizzatori finali le piccole imprese pensiamo delle start up se io dico ah ma io lo realizzo in modo che le start up non paghino niente perché si insediano lì ahia quello è un problema perché? perché le imprese a questo punto ottengono un aiuto che però io devo riuscire a quantificare quindi la cosa migliore è dire se la gestione la do fuori la do in base a una procedura di evidenza pubblica chi si insedia deve essere deve avere un accesso non discriminatorio eccetera eccetera possibilmente in base a quelle che sono le regole specificate ad esempio nel regolamento di esenzione articolo 56 e pagano un prezzo di mercato ora qual è il prezzo di mercato? se io ho scelto un gestore del business innovation center o del che può essere un big o o di di un qualsiasi incubatore e questo gestore dice io devo fare ho presentato un piano un business plan sulla quale ho previsto di avere determinati profitti eccetera eccetera quindi sono disposto a pagare un canone di concessione tot alla autorità pubblica che ha realizzato l'opera è chiaro che lui farà pagare un prezzo di mercato nel momento in cui non esiste nessun tipo di vincolo da parte dei prezzi che vengono imposti a questo livello qui quindi lui dirà io adesso chiedo un affitto non so per questi locali di 5.000 euro al mese la start up dicono scusa io per quel piccolo locale lì 5.000 euro non te li darò mai ah ma questo è il prezzo che io ritengo essere di mercato ti sbagli perché io vado nell'immobile accanto e per 700 euro mi trovo un ufficio nel quale metto solo la mia start up oppure posso presentare dei dati se io sono in gestione diretta io come autorità pubblica realizza questo incubatore dico bene io presento dei dati qual è il valore di mercato per degli uffici ad esempio per delle start up in questa zona e sulla base di informazioni che posso dimostrare direi il costo è ad esempio 700 euro per un locale non so di 20 25 30 metri quadrati o qualcosa del genere questo può essere considerato appunto che ci sia appunto un benchmark credibile e ammissibile questo è giusto per farvi rendere conto che esistono questi tre livelli e questi tre livelli devono essere depurati nel senso che l'ultimo livello non deve avere un elemento di aiuto se voi volete poi favorire le start up andate a prendere delle altre misure che sono nell'ambito del pacchetto del regolamento di isenzione per le start up esiste appunto un articolo specifico nel quale si possono dare degli aiuti per le imprese di nuova costituzione piccole imprese di nuova costituzione ricordiamo sempre attività economica indipendentemente dal stato giuridico che tu sia pubblico o privato non conta più nulla nel senso che il pubblico può fare un'attività che effettivamente è attività di mercato quindi rispetto del l'esistenza di aiuti di stato può essere anche valutata in termini di rispetto di principi dell'operatore di economia di mercato lo vedremo spesso oggi pomeriggio nel senso che io come pubblico mi posso affiancare a un investitore privato pari passo stesse condizioni stessi principi nessuna subordinazione quindi siamo se la impresa fallisce sostanzialmente siamo nelle stesse condizioni quindi io e il privato abbiamo le stesse condizioni non è un elemento di aiuto se siamo effettivamente in perfetto allineamento con quello che sarebbe un normale operatore sul mercato c'è una questione esempio di impatto sulla concorrenza in determinati ambiti molti stati membri hanno sollevato la questione di dire questo è un ambito nel quale non c'è concorrenza a livello nazionale perché l'ho chiuso dal punto di vista della normativa nazionale non esiste la concorrenza e gli operatori in questo ambito non hanno la possibilità di operare al di fuori di quello che è il loro ambito naturale di riferimento ad esempio nell'ambito della gestione dei rifiuti quando sono gli operatori municipali che dicono io opero soltanto in questa storia attenzione perché se noi pensiamo ad esempio nell'ambito dei rifiuti in verità abbiamo un'economia fiorente un mercato fiorente che sta apparendo quindi sulla questione del riciclaggio tutta una serie di questioni in verità viene molto difficile fare riferimento all'assenza di un impatto sulla concorrenza perché siamo nell'ambito di una situazione di mercato chiuso incidenza sugli scambi intraway invece pensiamo al carattere locale dell'attività l'attività locale è soltanto per l'utenza locale ed è chiaramente identificabile come un servizio che viene fornito ad esempio nell'ambito dei servizi è praticamente facile un servizio che viene fornito a un territorio senza attrarre degli investimenti a livello intracomunitario né aumentare ad esempio significativamente la presenza di clienti da altri stati membri ne parleremo di nuovo specificamente quando parleremo delle infrastrutture locali nel quale appunto il carattere locale assenza di aiuto può confondersi con il carattere locale che richiede invece una esenzione perché siamo in un ambito di aiuto di Stato l'aiuto dei minimi se abbiamo visto l'importo è troppo ridotto oppure appunto comunicazione SIEG rispetto rigoroso della Altmark se siamo nell'ambito degli aiuti di Stato torniamo di nuovo abbiamo il regolamento di esenzione abbiamo la decisione SIEG appunto dei servizi di interesse economico generale 21 del 2012 che prevede per dei servizi che vengono compensati fino a 15 milioni annui la possibilità di realizzare anche delle infrastrutture ci sono delle c'è una clausola specifica nel SIEG che mi viene sempre da adesso non so se ce l'ho qui che da riprendere quando siamo in presenza di un investimento anche per una infrastruttura c'è la possibilità di chi realizza il servizio dice bene io ti costruisco per te entità pubblica l'infrastruttura ma a questo punto devi considerare che inevitabilmente i tempi non possono essere ristritti ai 10 anni previsti ma per recuperare il costo dell'investimento in questa infrastruttura ho bisogno di un tempo più lungo e quindi è possibile che appunto il SIEG sia concesso in esenzione per un periodo anche più lungo ovviamente con il limite dei 15 milioni anni di compensazione quindi per evitare che si tratti di infrastrutture molto grandi che possono avere un impatto significativo a livello intercomunitario sulla quale sarebbe necessario da punto di vista della parte della commissione fare una valutazione specifica sul mercato e sull'impatto di quell'investimento a livello intracomunitario oppure regimi esistenti ovviamente e sempre ripetiamo nel rispetto di tutte le condizioni generali e specifiche cioè il fatto che rispettate delle condizioni specifiche del regolamento di esenzione generale ad esempio o della decisione SIEG 21 non è sufficiente voi dovete rispettare anche quelle che sono delle provision delle condizioni delle condizionalità generali altrimenti notificate prenotificate allertateci venite alla direzione generale concorrenza per verificare cosa facciamo nel vostro caso con questo chiudiamo questa parentesi introduttiva sulla questione fondi strutturali risorse pubbliche aiuti alle infrastrutture finanziamenti alle infrastrutture griglie analitiche per interpretarlo tutto questo si rifletterà nelle presentazioni successive più o meno adesso abbiamo dedicato appunto una parentesi dedicheremo una parentesi che presenterà Marta sulla aiuti alla banda larga così come sono previsti all'interno del regolamento generale di isenzione per categoria oggi pomeriggio ci tufferemo nel mare magno delle infrastrutture locali sportive culturali che so che sono un tema molto delicato che inevitabilmente porterà una discussione in aula quindi molti dei temi che affronteremo questi pomeriggio magari io non li farei chiedere adesso però se avete gesto delle domande su quello che è stata la presentazione sull'adesso sugli elementi della presentazione sull'adesso apro la platea coordinamento lo lascio a Angela grazie ai colleghi quindi adesso direi che possiamo passare alla fase del dibattito quindi come vi avevo preannunciato prima pregherei intanto i colleghi in sala se hanno da fare delle domande di prenotarsi nell'ordine la prima la prima mano che ho visto alzata del collega una richiesta vi chiedo a tutti anche se tra di noi ci conosciamo ma non è detto che ci conosca ci conoscano tutti anche i colleghi che ci seguono in streaming in videoconferenza di presentarvi appena prima di porre la domanda grazie collega Carlo Baldi dottor Amelotti nell'indicare i criteri generali per stabilire se il finanziamento di un'infrastruttura costituisce aiuto di Stato ha fatto l'esempio delle strade dicendo se si tratta di un'autostrada a pedaggio è aiuto di Stato in linea di principio se non è quantomeno ha detto se non è a pedaggio non è aiuto di Stato allora se il criterio è questo potrei per analogia dire che se i musei italiani diventassero accesso gratuito non sarebbero più aiuto di Stato cioè c'è un onore dello Stato più elevato perché spende di più nel senso che rinuncia all'incasso di quella piccola percentuale che non serve assolutamente a rimunerare il servizio ma ha una funzione diversa e quindi non è più aiuto di Stato fosse così sarebbe un'ipotesi da prendere in considerazione per lo meno per certi musei locali eccetera sul fatto delle autostrade io ricordo un vecchissimo caso delle strade non a pedaggio ricordo un vecchissimo caso direi anni 70 lo ricordo vagamente perché era un caso di scuola allora di un raccordo autostradale non a pagamento che sostanzialmente era a servizio di una grossa impresa automobilistica allora non si guardava molto agli aiuti di Stato si guardava molto agli aiuti del settore automobilistico e fu giudicato dalla Commissione e poi dalla Corsa di Giustizia come aiuto non ricordo più se fosse la BMW o la Mercedes ma è comunque una grossa casa tedesca e allora questo mi fa pensare un'altra cosa uno dei temi dell'intervento dei fondi strutturali riguarda il dissesto idrogeologico allora abbiamo ragionato su questi aspetti gli interventi a protezione del territorio dico in generale da eventuali esondazioni quindi argini dei fiumi c'è differenza fra l'argine che evita esondazioni di un territorio che comprende sia aree produttive che centri abitati per esempio e un intervento invece che protegge un'area industriale o una singola impresa questo è un caso fra l'altro concreto ci si è posto il problema ma il muretto a protezione di un'impresa è aiuto di Stato perché sarebbe un investimento che competa l'impresa oppure non è aiuto di Stato perché di fatto stiamo salvaguardando questa impresa da un'esondazione che è un fatto naturale che probabilmente quando l'impresa ha realizzato l'investimento non era prevedibile perché è cambiato il clima perché sono cambiate le situazioni e oggi invece diventa un problema un'altra cosa vogliamo procedere prima a raccogliere le domande poi rispondi Sandro come preferite raccogliamo le solite tre domande ok procediamo tre a tre allora l'altro collega e poi lei sì io vorrei fare una domanda chiedo scusa Donato Pulachini Regione Emilia Romagna per la ragione mi occupo sia del lato aiuti sia dell'assistenza tecnica alla programmazione quindi la domanda la faccio specificamente legata alla programmazione mentre diciamo gli aspetti più specifici degli aiuti magari ho altre domande ma le farò nel pomeriggio allora un aspetto diciamo delicato su cui chiedo un elemento di confronto riguarda il fatto che nell'ambito delle regole aiuti ci sono anche i progetti generatori di entrate allora la linea di confine che separa un aiuto da un progetto di generatori di entrate non è molto chiara quindi se un progetto genera entrate vuol dire che potrebbe essere perché le genera in quanto attività economica oppure le genera perché quel bene viene utilizzato da altre imprese che sono diverse dal beneficiario e queste imprese sono attività economiche ora Amelotti ci ha già detto qualora la concessione di questi spazi a favore dell'impresa sia a prezzo di mercato non esiste un aiuto di stato di secondo livello però questo è proprio perché pagano un prezzo per accedere a queste infrastrutture si genera un'entrata e quindi dobbiamo tenerne conto a quei fini quindi ai fini se il progetto genera entrate o meno il tema cioè noi in questo momento stiamo scrivendo le linee guida per una delle azioni previste dal nostro programma FESR che è quello diciamo che è un'azione molto particolare e quindi ovviamente essendo così particolare ci si infila subito in questi dubbi interpretativi che abbiamo previsto di realizzare dei cosiddetti innovation lab quindi degli spazi aperti ai cittadini e alle imprese che sono luoghi di condivisione e di proposta progettuale riguardante pratiche utili alla cittadinanza soprattutto per mezzo delle ICT ma abbiamo previsto che questi spazi si situino nei centri urbani quindi maggiori centri urbani della nostra regione in edifici che hanno una rilevanza culturale cioè vogliamo cogliere due finalità diverse e sposarle riqualificare un bene culturale ma destinandolo almeno in parte a ospitare una struttura che non ha un carattere imprenditoriale perché è uno spazio aperto per i cittadini quindi per noi questo non è appunto non si configura in nessun modo come un aiuto di Stato in quanto la riqualificazione dell'edificio non è volta allo sfruttamento economico dell'edificio in quanto tale non c'è dentro un museo o uno spazio a cui si possa attribuire una funzione di natura commerciale rimane il fatto che in alcuni casi questi edifici sono più grandi dello spazio che noi andiamo a riqualificare o meglio riqualifichiamo magari tutto l'edificio in quanto tale con uno spazio interno destinato a ospitare l'innovation lab e prevedendo altre finalità per gli altri spazi che possono queste essere aiuti di Stato o meno quindi se sono affittate a servizi commerciali lo tratteremo come progetto generatore di entrate se sono se invece hanno un'altra destinazione per cui quello spazio diventa in piena disponibilità sulla base di qualche titolo giuridico di un soggetto che esercita un'attività economica possono qualificarsi come aiuti quindi la prima domanda è quando siamo in presenza di questi casi lo scopriamo solo dopo non lo scopriamo prima la procedura potrà prevedere che ci si le fattispecie sono diverse quindi la domanda è lo dobbiamo gestire come aiuto individuale ai sensi del Giber nella fattispecie di e poi dovremmo valutare che cosa cioè per quale finalità aiuti l'IPMI piuttosto che aiuti per attività culturali eccetera quindi non sarà un regime perché non lo sappiamo da prima perché dipenderà dalla proposta progettuale ma sarà di volta in volta quindi vi chiedevo se condividete questo approccio perché ci troveremo spesso soprattutto nella fattispecie di interventi sui beni culturali che bisogna guardare alla loro destinazione d'uso per andare a vedere se dentro l'utilizzo degli spazi si annidino possibili forme di aiuto o progetti generatori di entrate vi ringrazio grazie alla collega la signora in seconda fila grazie grazie Vania Moschetta della regione Piuli Venezia Giulia le domande sono due in realtà e originano da esperienze che stiamo avendo con funzionari di altri stati membri il servizio di cui io sono direttore si occupa sia di cooperazione territoriale europea che di aiuti di stato la prima domanda infrastrutture aventi diciamo sfruttate a fini economici è stata presentata diciamo la necessità di verificare la presenza di elementi di aiuto a tre livelli parlando del primo livello quello della proprietà l'idea che diciamo in qualche modo diciamo c'è stata comunicata c'è stata resa nota su che noi non concordiamo ma volevo capire la posizione della commissione europea è che la presenza di una gara aggiungiamo ad evidenza pubblica per quanto se il soggetto proprietario sia un privato vero quindi non una società di diritto privato in mano pubblica ma un soggetto privato che va da gara gara di evidenza pubblica sono un predicato che non si sposa con la proprietà privata diciamo questo c'è l'idea che se si va a gara nella scelta del gestore non vi siano elementi di aiuto la mia perplessità anzi la nostra perplessità è questa che se il soggetto è privato non basta andare a gara per la gestione per evitare l'aiuto a livello di soggetto proprietario e io diciamo volevo capire che cosa ne pensa la commissione europea a questo proposito l'altra domanda riguarda la cooperazione territoriale europea che so che non fa parte dell'accordo di partenariato però è diciamo un problema non indifferente nella gestione degli aiuti di Stato la domanda è questa quando ci approcciamo ai progetti e dobbiamo capire se ci siano o meno elementi di aiuti di Stato dobbiamo tenere presenti dei parametri dei paradigmi diversi aggiuntivi rispetto a quelli che sono stati evidenziati in generale oggi perché la cooperazione territoriale europea innesta delle specificità o la valutazione deve tenere conto esattamente di questi elementi che abbiamo visto oggi posto che magari infrastrutture con la cooperazione territoriale europea magari non verranno finanziate però progetti pilota ci saranno quindi comunque la domanda se vogliamo è di carattere generale quindi cooperazione territoriale europea valutazione aiuti di Stato c'è altro di cui tener conto oltre a quanto è stato evidenziato oggi e anche in altre sedi ovviamente avevamo detto che procedevamo tre domande alla volta scusate grazie sì ma è un po' scomodo dunque giusto per cominciare con delle domande tutt'altro che facili noi cerchiamo di rispondere ovviamente il caveat le nostre risposte nascono dalla nostra interpretazione dalla nostra conoscenza di quelle che sono nei limiti delle nostre capacità la posizione della commissione ma noi non rappresentiamo la posizione della commissione parliamo a titolo personale però vi diamo un'interpretazione che è in base all'esperienza nel tempo se voi volete avere una certezza noi ripetiamo esiste una certezza che non è una certezza definitiva esiste la possibilità di fare le domande ufficialmente tramite il sistema ECNIT col quale quando si riceve la risposta è una risposta della direzione generale della concorrenza scritta dai funzionari ma valutata all'interno di un sistema di omogenizzazione nel senso che noi prepariamo la risposta magari la preparo io però la passo a altri colleghi che la verificano in base a quelle che possono essere le applicazioni quindi sono delle risposte più sicure qui io ho sette anni di esperienza in questo ambito ma vi assicuro che il SAM mi ha scombussolato parecchio per cui la terra trema sotto la mia terra i miei piedi per cui cerco di darvi delle interpretazioni allora la questione del io non ho detto che se la strada è a pedaggio se la strada è a pedaggio è un aiuto di Stato ho detto se non esiste nessuna forma di pedaggio quindi l'accesso è libero e generale siamo tranquilli per le altre cose e per quello che ho detto che noi abbiamo delle griglie in sviluppo nel senso che c'è una discussione furiosa e feroce all'interno della commissione su questo tema sulla questione di come trattare la questione del pedaggio è stato affrontato in maniera molto seria nella discussione del gruppo di lavoro con gli stati membri con delle risposte che devo essere sincero assolutamente rispettabili da molti stati membri che hanno sollevato delle obiezioni sul questione ma il pedaggio è una tassa o è effettivamente un prezzo di accesso è una discussione in corso sulla quale io non posso assolutamente esprimermi posso solo dire che se non esiste il pedaggio siamo tranquilli il museo gratuito è nella stessa condizione i musei inglesi di libero accesso non è aiuto di stato e aggiungo qui un elemento che poi riprenderò dopo noi applichiamo in maniera estensiva il concetto dell'ancillarità cioè dell'ausiliarità se all'interno del museo c'è bookstore shop caffetteria eccetera ma questi rappresentano una parte il ristorante cioè una parte percentualmente esigua che noi abbiamo identificato in maniera assolutamente pragmatica attualmente dell'ordine del 20% dell'uso dello spazio o del tempo resta nell'ambito del non aiuto cioè un museo che è accessibile gratuitamente che però ha lo spazio di shop più una caffetteria che però è limitata al 20% dello spazio resta non aiuto questo può essere di aiuto quantomeno a questo punto i miei musei li do a fruizione gratuita e lì evito qualsiasi problema di aiuto di Stato in Inghilterra io vado alla National Gallery vado alla Tate sono gratis io entro esco entro esco come voglio quando stavo a Londra era fantastico avevo un'ora mi infilavo dentro magari per vedere un dipinto se noi vogliamo avere un approccio all'educazione pensiamo che io all'epoca ero studente non avevo assolutamente dei mezzi quindi per me la possibilità di entrare era fantastica questa era un'opportunità per educare per permettere a qualcuno di educare poi altra cosa è il problema quindi il pedaggio non mi sono espresso e volutamente non mi esprimo sulla questione se il pedaggio sia o non sia su questo cerchiamo di dare un chiarimento nell'ambito della comunicazione sulla nozione di aiuto quando la nostra commissaria deciderà di pubblicamente dire siamo pronti per venire fuori con la comunicazione e da questo discenderà anche la futura griglia specifica che tratterà questo tipo di tematica che potrà essere una griglia molto restrittiva in questo senso o invece accogliere quelle che sono le osservazioni di alcuni stati la questione dell'infrastruttura delicata la lascio alla mia collega altrimenti monopolizzo la questione sui pedaggi si può dire che se i pedaggi sono forse un operatore privato un concessionario privato che gestisce l'infrastruttura quella è un'attività economica questo senza dubbio ecco quella è un'altra questione lì ci sono anche decisioni sui casi francesi le autostrade francesi e su quello non ci sono dubbi invece sull'infrastruttura dedicata è un tema che si pone adesso molto sulle infrastrutture di trasporto soprattutto le infrastrutture di accesso ad altre infrastrutture per esempio il tema del collegamento tra il porto e l'infrastruttura ferroviaria generale e la distinzione che viene fatta è proprio quella dell'infrastruttura dedicata cioè se l'infrastruttura è utilizzata e costruita appositamente per un determinato beneficiario che può anche essere l'autorità portuale per cui un collegamento che va sul molo non il collegamento alla linea nazionale gestita dal monopolista gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ma proprio l'infrastruttura che serve esclusivamente un certo operatore quella è un'infrastruttura che è stata considerata come quindi non ero a conoscenza del caso negli anni 70 è sicuramente un caso che andremo a rivederci sul idrico a monte protezione e territorio allora la protezione territoriale in linea massima è quello che possono essere degli interventi nell'ambito idrico a monte i bacini noi in genere si considera che questo è nell'ambito del public remit cioè fa parte appunto di quello che è un intervento generale dello Stato tuttavia attenzione attenzione adesso le autorità pubbliche spesso giocano sul filo dicendo ah no ma io comunque considero che questa è un'attività pubblica creando un'infrastruttura che sostanzialmente è dedicata però la faccio passare perché voglio favorire l'insediamento di una grossa impresa nel mio territorio noi abbiamo un caso abbastanza grosso proprio nell'ambito del smaltimento delle acque reflu eccetera al quale faccio riferimento che è il caso Propapier Propapier scritto alla tedesca che praticamente è infrastruttura a disposizione delle imprese che si insediano in un'area nella quale il più grosso investitore è il più grosso produttore il più grosso impianto per la produzione di carta d'Europa siamo in corte abbiamo perso in corte abbiamo preso una nuova decisione su questo sia per la questione di infrastruttura sia per la questione di aiuto all'impresa e ci ha portato ovviamente il principale concorrente quindi e qui faccio appello alla sensibilità alla buona volontà alla comprensione di tutte le autorità di gestione di tutte le autorità pubbliche quando noi diamo un aiuto a delle imprese sappiamo che stiamo dando un aiuto alle imprese non facciamo finta che non lo stiamo dando un aiuto alle imprese è inevitabile che una denuncia dietro l'angolo i concorrenti in questo mercato in queste situazioni in un'Europa nella quale comunque le condizioni economiche sono difficili nel quale comunque operare sui mercati diventa difficile loro fanno appello e usano questi strumenti noi siamo in corte regolarmente con delle denunce perché se anche la commissione è pigra nell'applicare per senso il fatto che non abbiamo voglia non abbiamo tempo non lo so ci sono tante ragioni ragioni politiche eccetera i concorrenti non ci perdonano questo e la corte non ce lo perdona ci portano in corte e la corte dice perché non avete fatto questa analisi perché non avete valutato questo quindi noi siamo sempre più attenti a questo genere di reazione smurfit k appunto questo è il caso dalla corte si chiama smurfit k contro commissione e credo sono contro commissione sull'annullamento sono riusciti a ottenere l'annullamento della nostra prima decisione sulla questione del dell'aiuto potenziale alla propapier appunto un depuratore a ridosso di una grossa cartiera abbiamo preso una nuova decisione la quale abbiamo consideriamo che comunque è un'infrastruttura per l'area quindi generale nella quale però il prezzo pagato dalla propapier è commisurato a quello che effettivamente è l'uso in base a quelli che sono i principi criteri applicabili a livello dello stato membro speriamo altre questioni sempre nell'ambito della stessa decisione avevamo ad esempio un parcheggio a ridosso di questa cartiera dove arrivano chi? i camion che si fermano lì aspettano di caricare i cartoni diciamocelo chiaramente è un'altra infrastruttura che sostanzialmente uno posso dire ma siamo nell'ambito di una zona industriale che è aperta a tutti quanti quindi dovrebbe essere sostanzialmente infrastruttura generale così la interpretiamo noi infrastruttura generale c'è un parcheggio nel quale chiunque può andare lì è chiaro che il 99.9 parcheggio dell'uso sono i camionisti che vanno a servire questa carteria 0.01 che ne so sono le coppiette che vanno scusatemi no ma no perché ogni tanto no ma nota di colore quindi faccio riferimento a queste decisioni qua perché comunque sono delle decisioni progetti generatori di entrate in risposta alla regione Emilia Romagna la domanda ovviamente complessa la tipologia è complessa noi non possiamo chiaramente dare una risposta e dire ah questo progetto va bene o non va bene è chiaro che se io faccio un intervento per la ristrutturazione di un patrimonio che dopo è accessibile alla cittadinanza a costo zero nel senso che chiunque ha accesso può entrare uscire fare quello che vuole non è aiuto di stato se io do aiuto per recuperare una chiesa che poi resta accessibile al pubblico nei limiti di quello che è l'accessibilità di una chiesa eccetera senza un pagamento e roba del genere resta nell'ambito non è aiuto di stato questo lo dico tranquillamente questa è la nostra posizione se però questi spazi io li do in affitto a degli operatori di carattere commerciale ora la questione diventa siamo nell'ambito di un'operazione che resta a livello locale o effettivamente che può avere un impatto a livello di scambi tra stati membri chi si insedia lì esiste un vantaggio per gli operatori commerciali che si insediano lì qual è il prezzo che gli faccio pagare io posso anche dire gli faccio pagare un prezzo di mercato a questo punto però abbiamo un rischio effettivamente che io sto facendo un'attività un intervento che è di carattere commerciale io pubblico che ristrutturo uno spazio e poi lo metto in affitto allora il concetto di progetto generatore di entrate come definito nell'ambito dei fondi strutturali non è necessariamente quello come lo definiamo nell'ambito degli aiuti di Stato quindi stiamo attenti a valutare quello che è effettivamente la generazione di entrate in senso lato nell'ambito dei fondi strutturali da quello che è invece l'attività economica stretta nell'ambito degli aiuti di Stato sono queste ambiguità che però restano inevitabilmente nel senso che la nostra preoccupazione è che la concorrenza e il funzionamento del mercato interno deve essere garantito un'altra questione è dire io sto dando degli aiuti dei fondi strutturali per degli interventi sul territorio però accidenti se chi fa l'intervento poi affitta gli spazi e recupera dei soldi non è che io ti do i soldi e poi tu comune poi te li tieni per fare altre attività quella è un'altra questione quella è parlata noi con i nostri colleghi della DG Regio un'altra questione invece nell'ambito di Stato quando questo ha un impatto sugli scambi allora bisogna fare attenzione e bisogna probabilmente premunirsi e dire qui possiamo avere una situazione che è problematica se è abbastanza problematica giberizzazione ossia applicazione del regolamento di generalizzazione che può essere una sofferenza perché è amministrativamente complesso però vi risolve la situazione si arriva a 20 milioni di spese ammissibili massimo questo è l'intervento massimo possibile 10 milioni massimo di aiuti potete poi ovviamente applicando il funding gap ne parliamo oggi pomeriggio del funding gap ne parliamo oggi pomeriggio di questi elementi però a questo punto se avete dei dubbi e avete delle ambiguità il consiglio della commissione è applicare il regolamento generale di disenzione anche caso per caso singola infrastruttura per singola infrastruttura perché noi non abbiamo detto che dovete fare dei regimi per le infrastrutture locali potete fare chiaramente quello che è un caso per caso anzi questo sostanzialmente è un incitamento a essere virtuosi e qui io anticipo degli elementi di oggi pomeriggio a essere virtuosi nella gestione di quello che è gli interventi pubblici la spesa del pubblico per dire ah ma io sto spendendo in qualche cosa che comunque mi genera delle entrate che possono essere senz'altro entrate se uso i fondi strutturali devo tenerne conto nell'ambito dei fondi strutturali potenzialmente sono anche aiuti di Stato per averli compatibili col mercato interno applico il regolamento di disenzione quindi mi faccio un bel business plan se io ho dieci negozi nel quale c'ho dentro Benetton allora gli faccio pagare quello che è un normale affitto degli spazi perché ovviamente ho magari lo spazio sulla strada pubblica che voglio trasformo in vetrina negozi della passeggiata del centro storico del centro di Bologna sono di Bologna siamo di Bologna chiaramente lì è difficile dire ah no ma adesso iuti di Stato non ne tengo conto per essere tranquilli e pacifici ho dei dubbi non ho dei dubbi non metto nell'ambito dell'articolo 56 la parte adesso la questione del 53 la questione del recupero del patrimonio culturale se io faccio l'intervento per recuperare l'infrastruttura lo posso fare nel 53 adesso mi viene in mente rapidamente quello che è una decisione una delle tante decisioni che abbiamo preso in passato su aiuti compatibili nell'ambito del recupero del patrimonio una misura nazionale olandese nel quale gli olandesi hanno detto noi a livello nazionale per metterci a riparo di tutte queste situazioni cosa facciamo noi notifichiamo la misura chiediamo alla commissione se è compatibile separando strettamente quello che è la gestione commerciale da quello che è l'intervento infrastrutturale tenendo conto che l'intervento infrastrutturale qualunque sia poi l'uso dell'infrastruttura stesso potenzialmente ha un effetto perché nel momento in cui viene usata e può avere un impatto nell'uso futuro per un'attività economica io do un vantaggio all'operatore economico quindi a riparo di questo mi creo una misura nazionale per dire tutti i miei interventi per salvare i miei edifici storici e l'Olanda non è mica l'ultimo dei paesi in termini di edifici storici pensate se tutte le case sui canali di Amsterdam mi collano dentro al canale è finita Amsterdam e tutto quello che è l'attrattività turistica di Amsterdam oggi io non trovo un albergo per andare a Amsterdam perché ormai li prendono due mesi in anticipo quindi rendiamoci conto che la potenzialità e l'impatto sono lì dietro l'angolo e a quel punto posso applicare il 53 del regolamento generale di esenzione dicendo bene fino a quella misura lì l'intervento specifico lo faccio ricadere in quell'ambito e questo è il nostro verbo noi andiamo in giro per dire per tutte queste situazioni di ambiguità dove abbiamo un'ambiguità usata il regolamento generale di esenzione lo so che non rende praticamente felici che è pesante e complicato però e questo sostanzialmente è lo stesso che viene a dire alla regione Friuli Venezia Giulia la presenza di gara risolve la situazione nel regolamento di esenzione per categoria nel senso che siamo nell'ambito esempio di una compatibilità dell'aiuto la gara neutralizza quell'elemento ma lo rende compatibile non significa che non c'è aiuto a chi usa poi l'infrastruttura l'infrastruttura è messa a disposizione di operatori economici quindi se io dico che comunque compatibile perché ricado nel regolamento di esenzione nel rispetto delle condizioni del regolamento di esenzione faccio la gara e rispetto quindi una delle condizioni previste specifiche dell'articolo 53 piuttosto che 55 piuttosto che 56 del regolamento di esenzione sono tranquillo per il gestore e resta un aiuto anche alla proprietà ossia all'investitore che è pubblico che dice io comunque realizzo un'infrastruttura che viene usata e verrà usata in maniera economica c'è un aiuto però ricado nell'ambito del regolamento di esenzione è un aiuto all'investimento all'investitore aiuto all'investitore da questo punto di vista l'esempio della banda larga può essere utile nel senso che nel caso della banda larga ad esempio le linee guida gli orientamenti della commissione dicono precisamente che la procedura di selezione su base competitiva assicura che l'importo dell'aiuto sia il minimo necessario quindi tuttavia questo non elimina l'elemento di aiuto perché la gara serve sostanzialmente alla selezione del beneficiario la gara invece al secondo livello quella per dall'investitore che costruisce l'infrastruttura e poi decide di esternalizzare la gestione quella invece serve ad assicurare che il terzo utilizzatore o gestore dell'infrastruttura paghi un prezzo di mercato quindi diciamo forse sono due gare con due funzioni in parte leggermente diverse su questa seconda tipologia di gara quella che è coperta anche dal regolamento di esenzione che era quello che faceva riferimento Alex nel contesto del regolamento di esenzione è sostanzialmente ritenuta compatibile non la sentiamo scusate un attimo dovete parlare al microfono se no i colleghi non vi sentono la domanda riguardava diciamo come si tratta diciamo la sovvenzione a livello di proprietario che sia privato quindi la riforma poi non è che mi aspetto la risposta ovviamente se necessita perché si sta creando l'idea sulla base della comunicazione sulla nozione di aiuto di stato che non è ancora ufficiale ma tutti hanno a disposizione che a livello di soggetto proprietario privato basta selezionare il gestore che si elimina l'elemento di aiuto e io diciamo ho obiettato che questo funziona se l'infrastruttura è di caso mai di proprietà pubblica ma se è di un soggetto privato non credo che si elimini l'elemento di aiuto di stato e quindi al momento che la gara elimini l'aiuto non è mai stato allora regolamento esenzione siamo nell'ambito degli aiuti di stato quindi noi non abbiamo mai detto che una gara elimina l'elemento di aiuto anche perché il servizio giuridico ci fulminerebbe qui la nozione di aiuto dovrà fornire o fornirà forse comunque esiste una versione che è stata ammessa esatto in consultazione sono d'accordo con il dottore Chietti che se noi dovessimo modificare significativamente il progetto un'altra consultazione potrebbe essere opportuna però questo è una cosa che decide la commissione nel senso proprio del collegio dei commissari e non noi quindi lo lascio alla nostra commissaria e al collegio dei commissari a decidere se opportuno e necessario in particolare il nostro vicepresidente Timmermans sarà particolarmente attivo su queste cose su questi principi il dire rispettiamo quello che è tutti sono i nuovi principi per l'adozione delle nuove normative le nuove legislazioni e questo potrebbe ritardare però significativamente la nozione di aiuto nell'ambito del regolamento di esenzione siamo nell'ambito di aiuti di stato quindi la gara non fa altro che ridurre come giustamente diceva Marta ridurre l'elemento di aiuto alla compatibilità però siamo nell'ambito di elementi di aiuto compatibili che la proprietà sia pubblica che la proprietà sia privata a noi sostanzialmente non cambia se volete metterlo in in esenzione ovviamente questo fa subentrare delle criticità delle problematicità nella gestione dello stesso noi abbiamo creato questi articoli in particolare per far fronte a quelli che sono degli interventi di carattere pubblico però nel momento in cui dico abbiamo dei soggetti privati abbiamo dei soggetti privati abbiamo già diversi casi peraltro aperti da noi quindi è possibile che prenderemo anche delle decisioni nel prossimo futuro su proprietà privata la questione è che nel regolamento di esenzione questo non lo affrontiamo specificamente anche perché che il privato sia o per il suo mercato o meno non lo possiamo sapere il privato può essere semplicemente un privato che dice ah ma io sono semplicemente un proprietario incasso questi soldi e me li spendo per fare il giro del mondo in crociera e non faccio attività economica su questo siamo silenti anche perché insomma questi articoli sono stati scritti un po' di corsa per fare si vede però posso solo si il microfono si Olga Simeon Friule Venezia Giulia capisco la prospettiva di dire siamo nel Giber quindi siamo dentro un contesto di aiuto di Stato ho l'etichetta aiuto di Stato e quindi gli accorgimenti che sono contenuti negli articoli mi aiutano a rendermi compatibile ma laddove io invece faccio un passo indietro e prima di mettermi dentro la scatola del Giber cerco di utilizzare gli strumenti dell'evidenza pubblica per togliermi dal mondo aiuto di Stato è lì che penso alla decisione sul porto di Salerno dove rispetto ad altre per esempio l'esperimento di una procedura di evidenza pubblica è stata considerata capace di eliminare la presenza di aiuto di Stato quindi sono d'accordo sulla seconda parte ma io cercherei o almeno cerco sempre per quanto possibile di togliermi fuori dalla scatola aiuto di Stato grazie alle procedure di evidenza pubblica e lì mi rimane una grande incognita ci rimane una grande incognita su quali siano le procedure che consentono di sottrarci all'etichetta aiuto di Stato questo è forse il tema più caldo attualmente all'interno della Commissione come è stato visto anche durante l'incontro con gli Stati membri quindi è un tema su cui noi non possiamo più di tanto esprimerci quello che possiamo dire è che nella decisione del supporto di Salerno la gara insieme a un impegno che lo Stato membro aveva preso in sede di notifica a verificare che i prezzi applicati fossero prezzi di mercato è stato considerato sufficiente per escludere l'aiuto al secondo livello nel caso del porto di Salerno l'aiuto principale era all'autorità portuale e in secondo luogo al concessionario o affittuario che avrebbero preso in gestione avrebbero gestito poi l'infrastruttura quindi quello che si può sicuramente dire è che la gara è sicuramente una best practice cioè se c'è una gara e la gara è aperta non discriminatoria pubblica rispetta diciamo i requisiti delle disposizioni degli appalti pubblici sicuramente o sia nello scenario non aiuto o nello scenario aiuto compatibile cioè sicuramente è una un messaggio che possiamo dare è che è una best practice e se c'è una gara non ci sono problemi di aiuto di Stato o perché sia al di fuori della nozione di aiuto in alcune circostanze è stato detto così o perché si tratta di un aiuto comunque minimizzato e comunque compatibile quindi il messaggio che possiamo mandare l'unica certezza giuridica che possiamo dare è che se fate se c'è una gara una procedura di gara quasi sicuramente non ci sono problemi non dovrebbero esserci problemi dal punto di vista di aiuti di Stato che questo sia sufficiente ad escludere la nozione d'aiuto l'esistenza di un vantaggio ci sono diverse interpretazioni anche perché non tutte le gari sono uguali anche perché è possibile utilizzare ad esempio l'attribuzione delle concessioni demaniali nei porti non è esclusa dalla direttiva concessioni per esempio quindi è possibile utilizzare quello che si chiama il beauty contest una procedura molto semplificata che potrebbe non essere rispettare i requisiti della procedura a palti potrebbe non essere sufficiente per essere considerata una gara ai sensi degli aiuti di Stato che consenta al 100% di ottenere un prezzo di mercato quindi la delicatezza anche del dibattito proprio dipende anche dal fatto che non c'è un'armonizzazione totale e la possibilità di avere procedure negoziate quindi dire una gara una procedura di gara ai sensi della normativa a palti esclude l'aiuto la commissione ad oggi non l'ha fatto e non so io personalmente non so se mai lo potrà fare e se lo farà con accorgimenti o procedure più precise ad esempio nella normativa servizio interesse economico generale Altmark consente la possibilità nel momento in cui la quarta condizione di Altmark dice che nel momento in cui prima seconda terza condizione rispettate con una procedura di gara non c'è un avvantaggio per l'impresa quindi è possibile in alcuni settori la commissione l'ha detto perché il prezzo è il prezzo di mercato cioè l'idea è che nel momento in cui si paga un prezzo di mercato nel settore delle infrastrutture è veramente un dibattito molto complesso direi ma comunque forze i colleghi c'è il problema della gara a livello della proprietà cioè il problema è il regime proprietario che è un problema che può stare sopra che non è oggetto di gara mai scusa Monica però devi parlare al microfono potete passare un attimo al microfono alla collega mi scusi e poi c'era una specificazione sul problema della cooperazione che forse farà Monica stessa no sì Monica laia agenzia per la coesione territoriale a parte la premessa che effettivamente la cooperazione territoriale sconta un vuoto normativo dal punto di vista degli aiuti di Stato ma per una questione di ambito di applicazione quindi legislatore comunitario destinando le norme agli aiuti di Stato non ha ricompreso la cooperazione territoriale che è come fosse un luogo sovranazionale dove si creano questi partenariati e quindi non si capisce bene chi deve pensiamo al de minimis per esempio un de minimis concesso nell'ambito della cooperazione territoriale non si capisce quale Stato deve rispettare il cumulo eccetera eccetera quindi questo è lo scenario della cooperazione che effettivamente andrebbe speriamo prima o poi regolato ovviamente ci manca ancora non dico niente sul fatto di quello che è stato detto a parte la commissione i livelli sono tanti però la gara anche fatta ai sensi delle direttive comunitarie in materia di appalti che ha come oggetto l'acquisto di un bene servizio o la costruzione di un'infrastruttura normalmente non copre il profilo della proprietà nel senso che non si sta acquistando dando come dire la proprietà non è l'oggetto della gara quindi non vedo come potrebbe diciamo così mitigare il profilo dell'aiuto che in sé esiste quando si dà la proprietà di un bene esatto ad un soggetto dico in più come contributo alla discussione che nel seminario di Milano sempre a titolo personale diciamo anche così un po' in pausa caffè però rappresentanti della corte di giustizia hanno escluso l'automatismo gara assenza di profili di aiuto di stato perché comunque residuerebbe anche laddove non ci fossero altri livelli d'aiuto secondo loro comunque l'aiuto al settore quindi anche tolto l'aiuto all'impresa rimane da definizione di trattato al settore produttivo quindi loro diciamo così ripeto a titolo personale un po' fuori verbale però il loro orientamento di oggi così come il servizio giuridico forse è quello di escludere l'automatismo gara non aiuto per noi parlo per me mi sembra anche correttamente escludere questo domodismo forse se posso dire sono due piani diversi perché un conto è appunto la gara per la selezione di un beneficiario e quindi si possono avere diverse proposte e la selezione del beneficiario a quel punto si minimizza soltanto l'importo dell'aiuto diversa invece è una gara che serve a stabilire il prezzo di mercato e da questo punto di vista quindi una gara di un livello successivo da questo punto di vista c'è una teoria perlomeno che sostiene la possibilità di utilizzare spesso ci sono diverse alternative per stabilire un prezzo di mercato o quello che si chiama il benchmarking il confronto con i prezzi di mercato in situazioni analoghe e ci sono sostanzialmente le procedure di gara e a volte il benchmarking è particolarmente difficile perché trovare il prezzo di mercato per l'utilizzo di una specifica infrastruttura a volte è molto complicato quindi in realtà a volte la gara può essere forse più precisa una gara a cui partecipano 20 partecipanti con offerte di tipo diverso e si seleziona l'offerta migliore a volte può essere un indicatore di un prezzo di mercato questa è una teoria ovviamente non sto dicendo che però questa forse è la base nel porto di Salerno ma qualche mese dopo è stata adottata una decisione nel porto di Giorgonio in Ungheria che ha proprio detto che in realtà la gara esclude l'aiuto una gara aperta non discriminatoria a livello degli operatori quando non ha escluso l'aiuto al primo livello quindi comunque c'è stata una valutazione a questo punto di vista non c'è ancora un'indicazione chiara e definitiva però diciamo che queste sono le due interpretazioni va benissimo adesso diamo la parola non so chi altro voleva intervenire ma era solo per dire che da questo punto di vista poi l'indicazione dell'utilizzo del regolamento di esenzione potrebbe non essere una risposta soddisfacente il collega grazie Albino Caporale autorità di gestione della regione toscana Fese vado per punti il primo punto il primo punto beh sì perché mi fa piacere questi corsi ma non usciamo più con dubbi che con certezze questo fa parte della nostra cosa però abbiamo un piccolo problema che i nostri programmi sono partiti stanno partendo e volevo chiedere questo è il primo punto quando le griglie arriveranno perché come diceva Angelo Adalonso a dire a un beneficiario pubblico privato che so sia vai in esenzione o vai in un aiuto ordinario significa avere tassi di cofinanziamento sostanzialmente diversi e quindi la fattibilità dell'operazione dell'intervento cambia e non possiamo noi dire ti do un contributo salvo poi fra due anni dirti che è lo stesso più piccolo più alto quindi questo è un tema che non è della concorrenza ma è della DG Regio e chiedo alle rappresentanti dello Stato Membri di far presente questa cosa io per fortuna non ho grandi progetti i colleghi del Mezzogiorno del Centro Nord che hanno i grandi progetti qualche problema l'avranno nella realizzazione degli interventi nell'incertezza secondo passaggio io sono d'accordo di non confondere i temi degli appalti dei direttivi appalti direttivi appalti come dire prima si parla di concessione dei maniali fin dall'ordinamento dello Stato Unitario è previsto che il pubblico per poter operare e nella funzione pubblica o in quella privata debba utilizzare le procedure di evidenza pubblica questa è la concorrenza per chi è beneficiario dei beni e del servizio pubblico quindi che uno faccia una gara e la collega credo che uno faccia una gara esime dall'essere un regime d'aiuto questo io credo sia d'accordo anche perché il principio che ci avete detto e che noi come attualità di gestione abbiamo recepito è che non rileva la natura giuridica del soggetto ma il tipo di attività e qui viene un tema che io però vorrei un chiarimento cioè l'idea che le entrate nette dei regolamenti si fanno di strutturare una cosa diversa sul regime d'aiuto allora ritornando ai principi che abbiamo imparato nel nostro ordinamento un ente pubblico può avere entrate da trasferimenti da tasse e tariffe cannoli di concessione eccetera se è una tassa questo è un servizio non si può considerare che c'è attività di natura imprenditoriale se è una tariffa cioè una corrisponzione di un costo rispetto alla prestazione del servizio qui siamo in attività di natura imprenditoriale perché io pago un costo a fronte di un servizio reso allora lei ha portato prima l'esempio dell'incubatore allora l'incubatore che al di là di quella che può essere diciamo così la natura del soggetto è né più né meno un'area industriale attrezzata allora domanda il comune che acquisisce un'area con le procedure di esproprio eccetera la infrastruttura e poi la vende sul mercato entra in concorrenza con un privato che ugualmente urbanizza un'area la mette sul mercato e svolge le stesse funzioni cioè di messa a disposizione di aree questa cosa si è analizzata negli anni scorsi anche dall'autorità dei lavori pubblici per i come si chiamavano gli interporti per i porti eccetera perché come giustamente la giurisprudenza sui porti le banchine non è un servizio ma è una prestazione nel senso che nel momento in cui io faccio pagare a un operatore del porto il noleggio della banchina è un'attività di natura commerciale quindi anche le aree industriali sono attività di natura economica questo non esime allora lavorando sullo sistema primo livello secondo livello il comune il soggetto pubblico recupera un immobile poi cosa fa lo mette a reddito perché deve creare facciamo facendo fondi strutturali economia attività di impresa quindi mette a disposizione gli immobili per la benettone piuttosto per il negozio di che ne so di fiori o cose del genere e che cosa fa fa una tua attività di valorizzazione del bene pubblico e quindi sono intratenente oppure le mette sul mercato con tutte le procedure a differenza pubblica di questo mondo e quindi fa l'operatore di mercato mi viene da pensare allora vi suggerisco un dubbio che tutte le convenzioni urbanistiche previste dai nostri regole sull'urbanistica di fatto sono tutte aiuti di Stato perché come dice Angela D'Anonzo ne esco facendo applicando il regolamento di esenzione quando io faccio una convenzione urbanistica che consente a un privato di avere degli indici di edificabilità superiori perché fa mercato è un aiuto da qui non ne usciamo più quindi il suggerimento è che noi prendiamo la teoria di gestione di essere diligenti nel sollecitare ogni volta se questo è un aiuto o non è un aiuto credo che noi inonderemo la commissione di quesiti sulla certezza del diritto che noi dobbiamo garantire ai beneficiari dei finanziamenti ad oggi io ho qualche dubbio che siamo in grado di fare questo grazie volevo dirvi una cosa diamoci anche una regola di come devo dire comune allora noi dobbiamo interrompere a un certo punto per il pranzo ma c'è anche la collega Balossino che deve fare ce la facciamo poi a fare tutto il pomeriggio questo me lo dovete dire va bene va bene allora niente continuiamo sul dibattito quindi la presentazione prevista per prima di pranzo la fai dopo ok quindi d'accordo perché volevo capire come stringevamo i tempi allora nell'ordine credo che ci fosse c'era Giuseppe il dottor Mele che io conosco quindi lo presento io prima che è il signore lì in fondo scusi poi mi pare che ci sia il collega Infante e poi le due colleghe davanti grazie una piccola premessa diciamo così finalmente si vede una specificazione almeno all'inizio nella sua introduzione una specificazione fra livelli e cioè la proprietà la gestione e l'utilizzatore cosa che in realtà non corrisponde all'evoluzione della giurisprudenza l'aeroporto di Parigi riguardava esclusivamente la gestione e non la costruzione e la gestione e cioè quindi la distinzione fra proprietà e gestione questo già è un passo avanti per cercare di distinguere quelli che sono i ruoli che devono corrispondere ai vari livelli perché qui il rischio è che voi prendiate di petto praticamente il complesso della spesa pubblica questo è il rischio e la mettete in discussione nel suo impiego nella sua allocazione perché ogni allocazione di spesa pubblica chiaramente può essere può avere degli effetti discriminatori diversi rispetto a territori rispetto a settori rispetto a situazioni di varia natura allora quello che preme diciamo un po' più di chiarezza e forse questo dovrebbe rientrare si spera in quello che sarà la vostra comunicazione sulla nozione di aiuto è che ci sia una chiarezza nel definire quello che è un compito dell'autorità pubblica di dotare il proprio territorio la propria diciamo area di competenza di quel capitale fisso sociale che ritiene opportuno dare alla propria collettività perché se mettete in discussione questo tipo di allocazione della spesa pubblica mettete in discussione investiture democratiche e quant'altro cioè vi ponete su un livello di natura politica che esula invece il controllo del buon funzionamento del mercato cioè quindi una distinzione netta fra quelli che sono le funzioni pubbliche e la dotazione di capitale fisso sociale in questo dovrebbe rientrare nella sovranità del soggetto pubblico rispetto a quelli che sono effetti su mercati e quindi su concorrenti quindi e riuscire ad arrivare a tagliare in modo netto e a distinguere in modo netto perché il tentativo che è stato fatto nella decisione sull'aeroporto di Lipsia deriva più che altro dal fatto che il finanziamento pubblico di cui si riconosce l'ammissibilità come aiuto di Stato però viene ritenuto un aiuto pubblico per il solo fatto che non viene dimostrato che c'è autonomia gestionale a valle da parte del gestore nel rischio diciamo così di utilizzare il finanziamento pubblico per la costruzione che vada a beneficio eventualmente dell'operatore stesso che gestisce l'infrastruttura c'è quindi una distinzione se vogliamo una separazione contabile se vogliamo cioè per esempio potrebbe essere questa anche un modo secondo aspetto sempre diciamo di distinzione dei ruoli e utilizzo per esempio dell'evidenza pubblica c'è anche il profilo della regolazione e questo non va sottovalutato nel momento in cui uno Stato comunque si dota di una struttura autonoma indipendente che regola un settore di attività economica o anche un'autorità locale perché esistono i regolatori locali rispetto a determinati servizi questi sono elementi che bisogna pur considerare nel innanzitutto includere nell'area applicativa degli aiuti di Stato gli eventuali finanziamenti pubblici perché il regolatore determina quelli che sono i criteri in base ai quali non c'è distorsione della concorrenza e c'è soddisfazione della collettività e quindi adempimento ai compiti istituzionali dell'autorità pubblica sono questi profili però che sinceramente nelle esposizioni finora fatte non riesco molto a vedere o a comprendere comunque restano i dubbi di fondo che cosa deve fare un'autorità pubblica che cosa può fare cioè qui è tutto sotto discussione potenzialmente lo è tutto mi viene in mente persino la fiscalità io sono Giovanni Infante del MIT in effetti mi riallaccio un po' a quello che è stato appena detto perché mi sembra di capire che faccio l'esempio dei porti siano identificati esclusivamente come dei puri centri economici ma anche nella nuova rinnovata strategia europea i porti fanno parte di una di reti e si si considerano importanti proprio perché sono alimentazione delle reti poi di trasporto ferroviario autostradale quindi senza i porti che sono poi tra virgolette strategici per il paese membro per l'Europa stessa ovviamente non c'è il funzionamento del resto e quindi sono assolutamente delle infrastrutture strategiche necessarie al paese e alla stessa comunità europea semmai si tratta oggi anche un po' di equilibrarle ma questo è un altro aspetto tra parti di Europa insomma però questo è un altro aspetto allora in quest'ottica mi chiedo siccome prima all'inizio lei parlava di pubblici poteri soltanto su azioni tipo dogana polizia insomma cose di questo genere qui all'interno per esempio di infrastruttura portuale ma mi estendo anche a quella aeroportuale a dire la verità e non è possibile pensare quando si vanno a fare questi investimenti di allargare di poter pensare di allargare ad una non lo so chiamiamolo aiuto compatibile anche un investimento più importante più incisivo che caratterizza l'infrastruttura stessa per esempio per un porto una diga foranea un'imboccatura un approfondimento dei fondali entro certi limiti previsti dal piano portuale i collegamenti dai per il porto che siano non destinati ad un diciamo ad un operatore ma collegamenti che per esempio il caso italiano tutti i porti hanno un deficit di collegamenti che servono a razionalizzare il collegamento del porto con la rete nazionale che sono servono al funzionamento del porto nel suo insieme scusa non volevo interromperti però siccome abbiamo dobbiamo stringere la domanda e quindi dicevo ecco finisco e quindi dicevo per una certa tipologia di infrastruttura non è possibile pensare per semplificare anche il lavoro che un domani si possa si possano considerare direttamente come dire acquisiti legittimi insomma compatibili senza dover farne un'analisi volta per volta quindi questa qui poi un'altra domanda magari la facciamo allora volete rispondere? parto dalla fine partirei dalla fine un attimo così facciamo più perciò per se una risposta a entrambe le ultime due domande la commissione non sta rimettendo in discussione la spesa pubblica nel settore strategico delle infrastrutture questo non è l'obiettivo della commissione esatto beh però c'è un problema come c'è un problema però di concorrenza infrastrutturale come è stato ne abbiamo anche parlato in altre occasioni il deficit che hanno i porti del sud Europa rispetto ai porti del nord Europa dipende anche dal fatto che alcuni paesi membri con più capacità di spesa possono permettersi di investire di più in infrastrutture quindi in realtà vedere la normativa degli aiuti di stato come soltanto un ostacolo alla spesa pubblica in realtà non è così cioè in realtà teoricamente l'idea della normativa degli aiuti di stato è proprio quella invece di tutelare la concorrenza tra stati membri così è l'interpretazione che ha da beh se è un'attività economica e nel momento in cui si definisce come attività economica allora scusate l'unica cosa che non ci possiamo permettere anche perché non ti si sente Giuseppe e diciamo questo scambio dialettico purtroppo non possiamo assicurare però dobbiamo lasciare la collega Balossino come devo dire di dire il punto di vista della commissione e poi ovviamente ognuno rimane nella sua opinione grazie l'interpretazione che è stata fatta della sentenza di Leipzigalle è l'interpretazione che ad oggi la commissione sta applicando poi si può contestare questo tipo di interpretazione però nella sentenza di Leipzigalle il beneficiario era FLH era proprietario e gestore dell'aeroporto e ha costruito una rampa per sostanzialmente per DHL e in quella sentenza soprattutto nella sentenza del tribunale al paragrafo 107 come ci ricorda sempre il nostro servizio giuridico la corte ha detto che nel momento in cui la gestione di quella infrastruttura di quella rampa era una gestione economica perché DHL fa un'attività economica e utilizza un'infrastruttura per la sua attività economica la decisione di costruire quella rampa è inestricabilmente collegata e quindi è a sua volta un'attività economica quindi si può discutere se la ricostruzione di una rampa o altre cose o altre infrastrutture specifiche siano o meno un'attività economica però questa è di base l'interpretazione del trattato che è stata data dalla corte a questa interpretazione la commissione è tenuta è tenuta a rispettare l'interpretazione che dà la corte per quanto riguarda i porti i pubblici cos'è pubblici poteri nei porti allo Stato no non è possibile cioè i pubblici poteri come definiti tra l'altro questo rinvio sono i paragrafi 40 40-47 invece dell'appello di Leipzigale della corte di giustizia e lì la corte dice che soltanto quando il il beneficiario esercita un'autorità pubblica quella la definizione è quella della sentenza della corte quelli possono essere sono considerati pubblici poteri c'è un margine di interpretazione però è un margine di interpretazione che a questo a questo stadio è fatto caso per caso quindi in questo momento questa è l'interpretazione della commissione si può discutere su tutto però questo noi dobbiamo presentare ad oggi la questione certo sulla sulla questione dello sviluppo del territorio e nella materia dei porti ad esempio non mi risulta che sia stata mai presa una decisione negativa della commissione il ruolo dei porti è sicuramente riconosciuto l'importanza di investire nelle interconnessioni è riconosciuta tutti i progetti di questo tipo sono sempre stati approvati il punto è ad oggi sono sempre stati approvati non è così negli aeroporti nel settore degli aeroporti alcuni aeroporti sono stati sostanzialmente fatti chiudere perché non erano necessari perché sono stati creati aeroporti sottoutilizzati o utilizzati soltanto da alcune compagnie aeree faccio riferimento alle low cost in particolare e investimenti pubblici sono stati ampiamente utilizzati per la costruzione di infrastrutture non necessarie non utili questo sia effettivamente il tema della sovraccapacità e della duplicazione di infrastrutture non necessarie e questo ovviamente nel momento in cui si qualifica l'attività come un'attività economica sia nella sfera degli aiuti di Stato a questo punto questo è uno dei requisiti che vengono utilizzati per la valutazione di compatibilità quindi tra le altre cose non è solo il settore degli aeroporti ma ci sono stati casi di costruzione di autostrade parallele a strade pubbliche che non sono a pedaggio che non sono mai state utilizzate sono il caso delle strade spagnole e il gestore dell'infrastruttura è in bancarotta quindi voglio dire non è un problema è vero che c'è un risvolto economico cioè creare un'infrastruttura che poi viene utilizzata economicamente ci sono effettivamente delle delle ripercussioni sugli operatori economici forse la domanda precedente la scopri tu per arrivare anche alla risposta della prima domanda che è la terza tuttavia mi preme poi sottolineare proprio su questa questione qui io vengo dagli aiuti regionali quindi so benissimo cosa significa l'importanza dello sviluppo del territorio eccetera eccetera resta il fatto che gli aiuti di Stato c'è un problema della distorsione della concorrenza quindi nel momento in cui ci sono attività economiche che sono indissolubilmente legate alla realizzazione di una specifica infrastruttura noi non possiamo dire comunque c'è una funzione pubblica per sviluppare questo attenzione attenzione perché ormai usiamo queste infrastrutture vengono usate per benefici economici per dell'attività economica ovviamente la Epsichale con la presenza di DHL è lampante nel senso che era una posizione sulla quale la corte non possiamo passarci accanto resta il fatto che a questo punto abbiamo una regolamentazione esempio nell'ambito del settore aeroporti con le linee guida per il settore aeroportuale nel quale chiaramente si dice altre cose si fanno e non si fanno con l'applicazione nel caso dell'aeroporto polacco per il quale abbiamo preso una decisione negativa perché con l'applicazione peraltro sostanzialmente preventiva di quello che era la nuova politica nell'ambito aeroportuale era necessario prendere atto di quello che era la posizione della corte di giustizia ora si può essere d'accordo se si tratta magari di impugnare in futuro determinate decisioni negative in questo ambito se avete il coraggio di prendere decisioni che vanno contro questo rendetevi conto che a Lussemburgo non saranno particolarmente pronti ad ascoltare queste tematiche cioè questi interventi li capisco perfettamente perché la politica è stata fatta in questo senso oggi come oggi l'Europa economica è anche cambiata e noi dobbiamo prendere atto di questo cambiamento se una cosa una volta veniva deciso centralmente punto si fa questo e si realizza e basta e non ha nessun impatto riteniamo non ha nessun impatto economico oggi si considera e si valuta quello che è l'impatto economico e se pensiamo a tutto quello che può essere esempio il settore ferroviario che in certi paesi nel mondo è stato profondamente liberalizzato riliberalizzato dopo che per tanti anni per decenni si è considerato di averlo considerarlo come un patrimonio nazionale per l'infrastrutturazione e il collegamento di tutto quello che è la rete nazionale dopo si è pensato che no forse è superato questo a fronte dell'esigenza ad esempio di una nuova struttura del mercato dei trasporti quindi non entriamo nel dibattito ad esempio della concorrenza tra modalità perché vi assicuro che su questo possiamo veramente scannarci nel senso che l'autostrada entra in concorrenza con la linea ferroviaria entra in concorrenza con l'aeroporto con il porto chi ha la priorità chi ha ragione eccetera ci sono fiori di studi su questo e sinceramente la posizione non è tranché non è chiara e identificata è per quello che noi diciamo per ogni singolo settore guardiamo come sta funzionando e cerchiamo di adottare della normativa in questo senso le normative degli aiuti di stato hanno una scadenza voi vedete le leggete c'è sempre la scadenza perché perché per i me perché è inevitabile dopo un po' per i me è scaduto non è più valido non è più commestibile è uno yogurt che non va più bene per il contesto nel quale nel quale si trova quindi noi ci muoviamo con un mercato che è in costante evoluzione il dibattito è assolutamente c'è un dibattito a livello di nozione aiuto eccetera è assolutamente necessario resta il fatto che queste posizioni purtroppo possono non essere operate cioè il fatto che questo è comunque di appannaggio pubblico non è una giustificazione in determinati settori non lo dico in tutti io chiudo qua anche perché dobbiamo chiudere la parentesi per fare la pausa breve ormai accelerata consideriamo riprenderemo appunto con le broadband e con l'approfondimento su tutte le questioni delle infrastrutture cercheremo di lasciare uno spazio anche per chi è in streaming perché altrimenti vengono vengono un po' tagliati fuori quindi faremo un giro che non sarà in aula ma sarà piuttosto un giro più che altro in streaming sulla questione della domanda del collega della regione toscana prima osservazione che mi viene da fare allora attività economica o no se c'è un'attività economica allora la questione dell'infrastrutture e degli aiuti e dell'infrastrutturazione delle zone industriali e ad esempio dei business innovation center eccetera può ricadere ampiamente nella nozione degli aiuti di stato tant'è che noi l'abbiamo sostanzialmente previsto con l'articolo 56 del GIVE quindi siamo nell'ambito dei aiuti di stato ci sono delle potenziali alternative delle quali io parlerò diffusamente all'inizio del mio intervento oggi pomeriggio sulle questioni delle infrastrutture locali nel quale effettivamente il pubblico ha la possibilità comunque di dire guardate che comunque determinate cose fanno parte della mia funzione pubblica di sviluppo del territorio e di favorire lo sviluppo regionale di sfavolire eccetera eccetera questo siamo d'accordo se però abbiamo dei dubbi che stiamo andando al di là di quello che è una pura funzione pubblica per favorire il tessuto economico sociale della mia area faccio riferimento al regolamento di esenzione e rientro nell'aiuto di stato quindi posso girare attorno girare attorno e se rientro però in una situazione di ambiguità uso il regolamento per dire va bene è un aiuto di stato ma io lo rendo compatibile pienamente compatibile dai sensi del 56 dell'articolo 56 del regolamento di esenzione al quale parleremo oggi pomeriggio chiudo sulla questione delle griglie le griglie future dipendono molto sostanzialmente dalla nozione di aiuto di stato quindi quando l'una dipende dall'altra sono sostanzialmente indissolubilmente legate quindi le nuove non so quando verranno fuori non posso dirlo pur essendo io in prima linea a lavorarci sopra quelle vecchie restano in vigore cioè per quanto per quanto sia possibile applicarle se ci sono dei chiari riferimenti a della normativa che attualmente è stata superata cioè se la normativa tipo nell'aeroporto è stata superata voi dovete applicare la nuova normativa sugli aeroporti le nuove linee guida sugli aeroporti se ci sono dei riferimenti al regolamento di esenzione 800 questi sono superati dal primo luglio voi dovete fare riferimento al nuovo regolamento di esenzione semplicemente quello se no i principi delle griglie i principi generali delle griglie precedenti restano valide e io lo dico e lo dico anche in commissione come mezzo di pressione sui miei colleghi che non occupando dei fondi strutturali ci dicono eh vabbè ma quelle griglie sono superate che me ne importa io dico non mi interessa questo è qualcosa che noi abbiamo messo a disposizione degli stati membri se noi non lo aggiorniamo gli stati membri possono dire io ho il pieno diritto di usare quelle vecchie e quello che c'è scritto nelle vecchie l'unico caveat quando ci sono dei chiari riferimenti a della normativa che è stata superata dovete fare riferimento alla nuova normativa però i principi generali che sono contenuti lì continuano a essere validi e poi tutti continuano a applicarli Pausa Pranzo Allora una preghiera intanto volevo ringraziare i colleghi che sono collegati in videoconferenza per la pazienza che hanno avuto di aspettare sino a mo' anche se li prometto che saranno i primi a intervenire subito dopo la pausa pranzo e vi chiedo di riessere qui non più tardi delle due e mezzo purtroppo perché altrimenti non ce la facciamo poi con diciamo con le presentazioni successive avendo dei timing anche di chiusura dei lavori di chiusura di chiusura